Il tema del fascismo e nel caso di Pasolini del nuovo fascismo è abbastanza centrale all'interno di questo progetto e quindi dei due spettacoli. Gadda, forse in ero seppriapo, sfoga come non aveva fatto in nessun altro testo la sua rabbia accumulata nei confronti di quell'esperienza. Ma quello che è importante è soprattutto quello che Gadda riesce a tratteggiare, che mi sembra anche la cosa più interessante. Al di là del referto medico sulla psicopatologia erotica dell'egolatra, quello che mi sembra più importante è l'attrazione periodica che gli italiani provano nel corso della storia come se ci fosse un fiume carsico che ogni tanto riemerge verso le figure affette da delirio narcistico, cioè verso la figura dell'istrione osceno che incanta il nostro popolo solleticando in qualche modo gli istinti più bassi. Pasolini fa un discorso diverso, Pasolini si sofferma soprattutto su quelle che sono le differenze fra il nuovo fascismo e il vecchio fascismo e in qualche modo ovviamente non arriva ad assolvere il vecchio fascismo ma istituendo una pietra di paragone arriva a dirci il vecchio fascismo è stato con tutti i suoi orrori infinitamente meno pericoloso del nuovo. e questo, diciamo, Pasolini riesce a esprimerlo in maniera molto precisa con delle affermazioni incastiche che rimangono ancora oggi secondo me insuperate cioè ad esempio quando Pasolini dice il vecchio fascismo in qualche modo era quando il vecchio fascismo finì il popolo italiano si liberò delle proprie divise e in 24 ore fece sparire queste divise ma una volta tolte quelle divise rapidamente gli italiani ritornarono gli italiani di 50 o di 100 anni addietro perché il fascismo in realtà li aveva resi dei pagliacci, dei servi forse in parte anche convinti ma non li aveva toccati sul serio, dice Pasolini non li aveva toccati nell'intimo il nuovo fascismo invece la società dei consumi ha profondamente trasformato i giovani li ha toccati nell'intimo ha dato loro altri modi di vivere, di pensare, altri modelli culturali e quindi non si tratta più, dice Pasolini di una irregimentazione scenografica e superficiale ma di una irregimentazione reale che ha rubato e cambiato dice la loro anima il che vuol dire che quando questa ennesima pagliacciata avrà fine non ci saranno più divise da togliersi perché purtroppo le divise sono oramai in qualche modo indelebilmente impresse e marchiate nell'anima di un popolo e quindi diciamo il genocidio di cui parlava Pasolini raccontando quello che accadeva tra il 1961 e il 1975 oggi è totalmente compiuto cioè siamo in un'epoca di post-genocidio culturale e quindi sarà in qualche modo molto 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 difficile ci vorrà molto molto tempo semmai sarà possibile disfarsi di queste nuove divise grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti